il mio campo di ricerca dopo l'università facoltà di lettere campo demo etno antropologico dopo parecchi anni ripresi in mano circa vent'anni fa la storia delle religioni in chiave antropologica anche cercando di svelare cosa si nascondeva dietro l'antico il nuovo testamento lo studio che abbiamo fatto uno stato uno studio non a caso tu hai detto ricercatore non professore perché non è che insegno nelle scuole ricercatore che cosa fa si occupa di comparare testi documentali ricerche archeologica etimologia e cercare di ricostruire la storia e quindi abbiamo fatto scoperte di livello internazionale sia per quanto riguarda l'antico che il nuovo testamento soprattutto per quanto riguarda il nuovo testamento stanno cercando di fare una congiura del silenzio sulle nostre ultime scoperte nonostante io abbia detto a chiunque ragazzi io sono disposto a venire a confronto con professori accademici chi volete voi esegeti del vaticano che inizialmente hanno accettato poi quando hanno visto le prove documentali che portiamo si sono tirati indietro questo è avvenuto davanti alla giornalista anna turletti che si trovava in egitto professore della somma pontificia università l'ateranese col dottorato in cumram parlo del libro per esempio l'ultimo libro oltre il velo di iside le scoperte sono qualcosa di devastante perché perché abbiamo svelato in maria madre di gesù la terza moglie del ero del grande maria boeto e quindi un gesù figlio terrero del grande che non cercava per ucciderlo ma perché voleva suo figlio indietro e maria soprattutto figlia della regina che lo parla reggitto e del suo sommo sacerdote simone boeto tant'è che boeto insieme a marco antonio ea cleopatra li troviamo insieme a tarso nel 41 ma quella del padre di simone poeto questo sacerdote che stava ad alessandro egitto sotto che lo parla tutto ci porta in egitto come mai eccoci eccoci buongiorno buongiorno con il nostro alessandro de angelis e ricercatore storico molto molto particolare ciao alessandro benvenuto ciao luca ci riserviamo dopo un po di tempo sono contento di essere di nuovo ospitato da da te ecco allora alessandro di che cosa ti occupi qual è la tua passione la tua il tuo campo di ricerca il mio campo di ricerca dopo l'università facoltà di lettere campo demo etno antropologico dopo parecchi anni ripresi in mano circa vent'anni fa diciamo la storia delle religioni in chiave antropologica anche cercando di svelare cosa si nascondeva dietro l'antico il nuovo testamento e lo studio che abbiamo fatto è uno stato uno studio non a caso tu hai detto ricercatore non professore perché non è che insegno nelle scuole ricercatore che cosa fa si occupa di comparare testi documentali ricerche archeologiche etimologia e cercare di ricostruire la storia e quindi abbiamo fatto scoperte di livello internazionale sia per quanto riguarda l'antico che il nuovo testamento soprattutto per quanto riguarda il nuovo testamento stanno cercando di fare una congiura del silenzio sulle nostre ultime scoperte nonostante io abbia detto a chiunque ragazzi io sono disposto a venire a confronto con professori accademici chi volete voi eseggeti del Vaticano che inizialmente hanno accettato poi quando hanno visto le prove documentali che portiamo si sono tirati indietro questo è venuto davanti alla giornalista Anna Turletti che si aveva in Egitto professore del della Somma Pontificia Università Latteranese col dottorato in Qumran e parlo del libro per esempio l'ultimo libro oltre il velo di Iside le scoperte sono qualcosa di devastante perché perché abbiamo svelato in Maria madre di Gesù la terza moglie del relo del grande Maria Boeto e quindi un Gesù figlio del relo del grande che non cercava per ucciderlo ma perché voleva suo figlio indietro e eh Maria soprattutto figlia della regina Cleopatra d'Egitto e del suo sommo sacerdote Simone Boeto tant'è che Boeto insieme a Marco Antonio e a Cleopatra eh li troviamo insieme a Tarso nel quarantuno ma quello era il padre di Simone Boeto questo sacerdote che stava da Alessandre d'Egitto sotto Cleopatra ora capisci Luca che eh dire questa cosa così eh farebbe trasalire un attimo tutti quanti come Maria figlia della regina Cleopatra beh forniamo prove documentali magari possiamo anche fare una trasmissione su questo dove vi porteremo tutte le testimonianze non è un caso che il Vaticano abbia come simbologia perché a questo punto noi ci siamo ritrovati con Maria che nascerà ad Alessandre d'Egitto e Gesù ad Alessandre d'Egitto e questo eh abbiamo sentito anche dei giornalisti egiziani che ci hanno detto Alessandro avrai due grandi nemici eh cioè gli israeliti e Vaticano perché perché ci sarà uno spostamento di un forte eh prodotto interno lordo dal derivato dal turismo da Gerusalemme ad Alessandre d'Egitto cioè in Egitto non ci sono più solamente le piramidi se questi due personaggi sono nati realmente lì e a questo punto il signor Bergoglio venisse a chiarire come mai tutta la simbologia che c'è dietro il Vaticano e che fa parte anche della mozzoneria l'occhio di Horus le piramidi l'obelisco il battesimo che viene dall'Egitto eh la mitra del papa che rappresenta lo sirinco il pesce che inghiotti il fallo di di osiride eh l'inumazione addirittura dei papi che vengono chiusi dentro quattro sarcofagi come i faraoni la menora che abbiamo sotto il parla l'entrata del Parlamento italiano tutto ci porta in Egitto come mai quindi sapevano noi stiamo chiedendo confronto pubblico con docenti universitari e purtroppo fuggono eh ma capisci bene che Maria e Cleopatra sono le due figure più conosciute al mondo se sul web la regina Cleopatra d'Egitto è quella più cliccata quindi censurare o fare congiura del silenzio su queste scoperte storiche è qualcosa che di vergognoso ci vengono a parlare la massoneria di Giordano Bruno di Galileo e poi censuriamo i ricercatori italiani che hanno fatto scoperte di livello internazionale oppure un Mosè identificato come fratello del faraone Achenaton Sigmund Freud c'era andato molto vicino e ha identificato Mosè addirittura con Achenaton invece era il fratello di Mosè V degli Ure lì attraverso una comparazione tra i testi di Maritone che ci parla del fatto che Mosè visse sotto il faraone Amenofi ma non sapevamo quale Amenofi era abbiamo fatto un lavoro di comparazione tramite i testi di Tito Flavio Giuseppe prove archeologiche eccetera eccetera siamo riusciti ad individuare anche chi era il nostro caro Mosè visse sotto il faraone Amenofi IV che era il faraone enoteista Achenaton che portò il culto di Aton in Egitto e Amenofi e quindi abbiamo riscritto anche la storia dei patriarchi biblici ovviamente queste sono scoperte e vanno molto scomode al potere ovvio e che quindi vengono fatte oggetto di congiura e di censure ma perché questo perché i politici italiani poi ci tengono al voto dei cristiani e questi si vedono crollare tutto quanto in un attimo ecco perché non ci danno spazio divulgativo su scoperte storiche in realtà poi non siamo assolutamente andati ad intaccare la figura del Gesù storico anzi abbiamo scoperto che era un terapeuta di Alessandria d'Egitto e questi terapeuti sai che cosa fecero Luca riportarono in auge e così entriamo anche in quello che dobbiamo dire oggi le cosiddette società egualitarie neogilaniche chi entrava in quelle comunità non poteva possedere più di altri tutto veniva distribuito in maniera equanime tra gli abitanti del villaggio ecco perché poi il gesuanesimo è così profondamente differente dal cristianesimo creato da Paolo di Tarso che si collegò al potere imperiale di Roma e non solo per creare una dottrina di potere ecco perché queste divergenze tra le parole di Gesù e la nascita di un cristianesimo a favore di un potere le cui ramificazioni arriveranno fino ai giorni nostri attraverso le famiglie nobiliari dell'aristocrazia nera noi nel secondo libro di oltre il velo di Iside andremo a svelare da Paolo di Tarso i primi papi siamo arrivati a svelare persino chi è Re Artù e anche qui ci sono stati tantissimi eh ricercatori per cercare di svelare qualcosa su questo personaggio e siamo arrivati fino ad Artù d'Artù fino a Cal Romagno e da Cal Romagno abbiamo la nascita delle la diramazione di tutti i reali dell'intera Europa ragazzi e quindi sono ricerche che sono scomode al potere ed è per questo che io ti ringrazio santissimo per darci eh spazio divulgativo su scoperte che se fossero state fatte all'estero avrebbero avuto eh ben altra divulgazione rispetto qui all'Italia dove la massoneria la fa purtroppo ancora oggi da padrona. Ok sì sì sappiamo un briefing ci siamo detti anche tutta una serie di difficoltà che di fatto hai affrontato no per dire delle cose in quanto anche ci sono stati dei confronti ovviamente che sono stati abbandonati e ti hanno un po' lasciato di fatto senza la possibilità no di poterti poi e di poter poi avvallare quello che comunque di fatto sostieni però comunque la documentazione che mette a disposizione è tale per cui insomma ci sono poco c'è poco spazio a a dubbi in questo senso. Ma sai Luca se avesse però potuto perché comunque sia abbiamo fatto dei video che hanno superato il mezzo milione di visualizzazioni no? Per cui se avessero potuto confutarci lo avrebbero già fatto ti assicuro. E quindi poi diventa anche rischioso eh continuare a divulgare queste scoperte se non ci aiutano eh persone che sono libere da questi vincoli del del potere nel divulgare la nostra unica arma di difesa che abbiamo è divulgare queste scoperte altrimenti possono arrivare ad a tutto di fermarti e di tapparti la bocca lo sappiamo benissimo no? Come agiscono queste persone e queste scoperte di al sicuro sono molto molto devastanti e parlavamo di Gesù e di queste società neogilaniche qualitarie e oggi abbiamo detto che andavamo sul libro Apocalisse o Rivelazione no? Allora infatti il tema di di quest'oggi è questo che Apocalisse profezie sul futuro o evento del passato? Cioè nel nell'Apocalisse di che cosa si parla? Sì e noi abbiamo scritto due libri in un libro 666 è un libro storico attenzione ragazzi non vi fate ingannare dalla copertina la caduta degli angeli ribelli e il marchio della bestia sono andato proprio su oltre sul testo amarico il testo più antico scritto nell'antica lingua etiope di Enoc sono andato anche su Apocalisse riuscendo per la prima volta a svelare questo testo misterioso forse scritto da Giovanni l'Evangelista figlio di Zebedeo e di Maria Salome e attraverso una comparazione tra questo testo e un evento scientifico che è un evento catastrofico che avvenne ora iniziamo a fare un attimo chiarezza sui vari eventi catastrofici che si sono succeduti gli ultimi più recenti su questa terra uno è stato nel 10.900 avanti Cristo la caduta di uno di un asteroide e li abbiamo avuto poi fu il primo a pubblicare articoli su questo perché su quell'evento iniziarono a diffondersi teorie sul fatto che potesse essere stata la caduta di quell'asteroide in Groenlandia il fatto che poi si costruisse il mito del diluvio universale ma in realtà 11.900 anni fa ancora non esistevano le prime forme di scrittura e la tramandazione orale di quei racconti fino a noi sarebbe stata impossibile le prime forme di scrittura le abbiamo con i sumeri ma ancora prima con i pictogrammi che vengono dalle tavolette di tartaria che sono poi state elaborate da un proto elamitico l'elam si trova dove si trova dove c'è l'odierno Iran e dove c'era l'antica capitale Susa c'era un dio sumero dio tra virgolette perché sono personaggi umani che hanno subito un processo di vemerizzazione cioè divinizzazione e deificazione che si chiamava Enlil e lì fece lo studio attraverso la losdanite cioè dei nanodiamanti a struttura reticolo esagonale che sono arrivati fino ai pire dei dalla Groenlandia della caduta di questo asteroide il secondo evento ce l'abbiamo 6.000 anni eh avanti Cristo fu eh la frattura di un eh di un grosso blocco di ghiaccio dalla laurentide che causò un innalzamento delle acque tant'è che eh il lago nero poi attraverso lo stretto dei Tardanelli si riempì e diventò un vero e proprio mare sommergendo poi eh queste civiltà del neolitico che eh abitavano sulle sponde di quel eh di quel lago e caddero veramente quantità immense di 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 acqua ma anche lì non esistevano le prime forme di scrittura prime forme di scrittura invece che abbiamo detto eh furono elaborate da chi? Da un popolo indoeuropeo di cui noi siamo discendenti come grandi costruttori dai kurgan chi erano questi kurgan? Era un popolo indoeuropeo che fecero tre ondate di invasione 5.500, 4.500, 3.500. A noi interessa l'ultima ondata di invasione perché? Perché occuparono dopo essere stati un gruppo evidentemente di questi personaggi a contatto con le società neogilaniche e qualitarie della vecchia Europa, la cultura vincià dove appresero l'arte della metallurgia, le prime tecniche costruttive con fango e mattoni per costruire abitazioni, elaborarono poi questi pittogrammi, riportiamo nei nostri libri tutti questi pittogrammi e l'evoluzione poi dal proto e la mitico addirittura arriveranno fino ai protogeroglifici egizi ma eh segni particolari di cui poi non si era accorto nessuno. questi kurgan che cosa fecero? Occuparono la terra di Shinar nella Bibbia o la terra di Sumer, sottomisero la popolazione autoctona, vengono chiamati i famosi, loro sono i famosi Anunna o Elohim della Bibbia che vuol dire eh progenia o semenza dei principi o dei governatori costruirono le prime città-stato lungo le sponde dei fiumi Tigri ed Eufrate e diventarono governatori di queste città, abbandonarono la abbandonarono parzialmente eh la domesticazione dei cavalli con cui poi compivano queste incursioni in queste società libere e qualitarie delle società neologianiche e eh iniziarono a fare i loro traspici marittimi attraverso queste chiatte di imbarcazione come quella di Noè attraverso i fiumi per scambiarsi e la produzione delle beni dovuti all'allevamento, all'agricoltura che producevano e lì ci troviamo la testimonianza eh del fatto che loro furono eh schiavizzarono la popolazione locale autoctona, vengono chiamati gli igigi, quelli della testa nera, tant'è che nel mito del piccone tradotto da Noah Kramer abbiamo uno di questi igigi che con il piccone in mano andò sotto il palazzo di Ellil che si trovava a nell'Elam, cioè confinava con l'Iran e con il piccone in mano perché il lavoro che gli facevano fare per scavare canali e bonificare il territorio era diventato insopportabile e eh tant'è che poi lo sappiamo perché eh un il figlio di Sargon rimusce di Akkad rivendicherà poi l'Elam dicendo che gli fu lasciata proprio in eredità da eh Ellil e questo ci dà la prova che Ellil era governatore nell'antica città eh di Susa e proprio in questo periodo io stavo facendo delle ricerche scientifiche sulle grandi catastrofi eh naturali so cosa poi fece una tesi universitaria dice la relazione tra le grandi che legava le grandi catastrofi naturali alla nascita delle religioni e in una mi imbatte in una eh in un reperto che si trova fu scoperto a Neneva eh che si trova nel British Museum dove si narra di un astronomo Sun che descrisse con tutte le costellazioni in quel periodo la caduta di una grossa cometa questa avvenne abbiamo la datazione grazie alle costellazioni che eh ha descritto questo astronomo il 29 giugno 3123 avanti Cristo questa è la data che cambierà il corso degli eventi per l'umanità e abbiamo l'Olocean Group eh con dei studiosi ricercatori come eh Massé eh la Abbott Barker eh studiando tutti i miti degli antichi popoli questi miti parlavano di qualcosa di molto particolare di una eh forma mostruo di una qualcosa con una forma nostruosa con due grandi corna sulla testa che si avvicinava là sulla terra dopodiché ci fu una catastrofe immensa e quindi iniziarono a pensare che eh tutto questo fosse dovuto alla caduta di una cometa perché perché le comete molto spesso quando girano il tonno al sole in molti casi hanno una particolarità quella di sdoppiare la sua coda in due lunghe parti il famoso drago o il serpente che ritroviamo nella mitologia anche nella nella Bibbia in tantissimi testi e arriva fino poi agli egizi se voi fate caso i primi faraoni sono dotati di due grandi corna con una palla di fuoco al centro addirittura in molti quadri abbiamo eh ci hanno detto sono dischi volanti c'è una figura al centro che gri e che guida quello che è una no quella non è una un UFO era la raffigurazione di questa cometa Barker perché fu imputato poi ad Ellil la caduta di questa eh cometa e quindi questo team di scienziati che cosa fece eh trovarono gli Chevron che sono colline che si alte circa 600 metri le trovarono sia in Madagascar eh sia in Australia quindi attraverso la localizzazione di questi Chevron con eh sedimenti che venivano dal fondale oceanico capirono eh riuscirono a capire dove poteva essere caduta quella cometa e infatti cadde nell'oceano indiano e gli è stato ritrovato un eh l'impatto della cometa sul fondale oceanico largo a dire 29 chilometri quindi fu qualcosa di spaventoso ma che cosa successe? Altra cosa che abbiamo fatto nell'altro libro Lucifero il re Sumero tradito dal Signore sono andato sugli testi più antichi che abbiamo a disposizione ma noi ci troviamo in Italia noi acquistiamo libri che costano veramente tantissimo ne parlavamo prima in privato no Luca ecco perché poi fare ricercatore eh è più la spesa che l'impresa a volte poi nel fare queste queste scoperte questi testi di alimentazioni sono un vero e proprio cronovisore di l'impatto e degli effetti della coda di questa cometa quando passò sopra la terra di Sumer ma anche sulla valle dell'Indo dove ci vengono a raccontare che ci sono state battaglie tra gli dei erano raggi collaggi d'aser eccetera eccetera assolutamente tutto falso tant'è che il processo di femmerizzazione poi in urta tutti questi personaggi usavano mazze e addirittura in Egitto abbiamo il faraone Narmer primo faraone che lo troviamo nella tavoletta di Narmer con la mazza in mano e questi kurgan nei testi di alimentazione si parla per la prima volta del fatto che iniziarono a costruire queste armi proprio attraverso la metallurgia in rame ed erano ovviamente molto più leggere di quelle in pietra bene dicevo si parla degli effetti della caduta di questa cometa in questi testi delle alimentazioni quindi la distruzione di città come Ur, Shurup, Akheridu eccetera eccetera dove in ognuna di queste città c'era come governatore uno di questi personaggi sumeri e che cosa ci raccontano? adesso arriviamo poi ad Apocalisse e leggeremo il testo e sveleremo come Apocalisse di Giovanni non parla di profezie che avverranno nel futuro ma di quell'evento passato perché poi l'abbiamo fatto un lavoro di comparazione tra i testi delle alimentazioni e l'Apocalisse e i risultati sono stati qualcosa di decaltante. In questi testi delle lamentazioni ci viene detto che cadevano pietre incandescenti dal cielo che, ed era lo sciame della coda della cometa, incendiavano tutto infatti nei testi delle lamentazioni troviamo Ninurta, uno di questi dei sumeri che con la sua ammazza, incendiava l'intera foresta dell'Elam, l'Elam abbiamo detto si trovava in Iran ed è una, tra l'altro lì questi monti Kurgan sono i monti dove vivevano, questi monti Zagros dove si trova anche questa foresta, arrivano fino al Mar Nero, una cadena montuosa lunga circa 1200 chilometri da dove venivano proprio questi Kurgan, Kurgan vuol dire altura, Gan da Ganon che vuol dire recinto dove loro allevavano questi cavalli e li tenevano rinchiusi. Quindi si dice che al contatto con queste pietre i corpi addirittura vaporizzavano, figli che chiamavano in aiuto le loro madri e le madri che erano impossibilitate ad aiutarle, tutto fu distrutto, gli uccelli si alzò un vento spaventoso dal sud, il vegno Tomaligno dal sud e perché? Perché poi quando cadde quell'onda di tsunami, la cometa sull'oceano indiano alzò un'onda di tsunami che è stato calcolato essere più alta di 200 metri, sapete cosa vuol dire? Un muro d'acqua alto oltre 200 metri che si incuneò nel Golfo Persico aumentando poi la velocità camminò sul Tigre e sulle Frate, sollevando poi la famosa imbarcazione di Upnapisim o Ziusudra o il Noè della Bibbia, nei racconti biblici si dice che venne trasportato fino sul monte Ararat e in questi testi si racconta che gli uccelli non riuscivano a alzarsi in volo per questo fortissimo vento, dopodiché si alzò questa onda di tsunami, le acque non erano più potabili perché ci furono grosse scosse di terremoti, il sole, viene detto, era diventata la luce del sole, non brillava più, visibile come quella di una stella e la luna si oscurò, il mito del sole nero, il mito della luna nera che sono arrivati fino ai nostri giorni e quindi morirono tantissime persone. Beh è stato calcolato dagli studi che abbiamo visto a Tungusta nel 1900, ci fu un impatto di un'esplosione di un asteroide sopra il bosco in Russia che distrusse completamente una foresta nel raggio di centinaia di chilometri e lo stesso avvenne qui, ma anche nel Mahabharata si parla in questi testi vedici di un si alzò una colonna di fumo altissima, si apriva con onde circolari, sono impatti di questi grossi frammenti di questa cometa che a contatto poi col terreno sollevavano queste grosse colonne di fumo, di incendio, intere città furono distrutte, si parla addirittura del palazzo di Nanna, scusa, Nanna era uno dei figli di Elil, a proposito te la ricordi della canzone, Ninna, Nanna, Ninna ho, questo bubo a chi lo do, lo daremo all'uomo nero, l'uomo nero gli gigi, Nanna era un figlio di Elil, i Nanna e Duto erano i figli di Nanna, nipoti di Elil, tutte queste melodie ancestrali vengono addirittura da quel periodo, cose che le persone non sanno e quindi addirittura il 60-70% delle persone moriva per esplosione in seguito all'impatto e al violento l'onda d'urto che si sprigionavano, la deflagrazione di questi grossi frammenti a contatto con l'atmosfera, per esplosione degli organi interni morivano, ti ricordi l'esplosione che c'è stata a Beirut? Sì. Che onda d'urto pazzesca che c'è stata, no? È arrivata, beh lì dovete pensare un'onda d'urto addirittura decine o centinaia di volte superiore a quelle che si sviluppò lì a Beirut, dopodiché queste persone si videro arrivare questa onda di tsunami alta oltre 200 metri che travolse tutto quanto. E a questo punto Luca, andiamo a leggere Apocalisse. Quindi, dopo aver raccontato quello che è successo, adesso Luca prova a metabolizzare quell'evento rileggendo il testo di Apocalisse e guarda che cosa ci racconta in realtà. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora. Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trumbe. Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i santi bruciandoli sull'altare d'oro posti davanti al trono. E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme con le preghiere dei santi. Ascolta adesso. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra. La prima cosa che causò la coda della cometa fu un incendio enorme della foresta dell'Elam e le piede che cadevano incendiavano tutto al loro passaggio. Ne seguirono scoppi di tuono, clamori, fulmini e scosse di terremoto. L'impatto di questa cometa sul fondale oceanico causò violenti terremoti. Questo avviene molto spesso quando asteroidi o comete impattano con la terra. Si hanno forti scosse di terremoto oltre al sollevamento di enormi quantità di materiale che oscurerà poi il cielo, oltre a miliardi di tonnellate di acqua salata che vaporizzarono nel cielo, nell'atmosfera, ricadendo poi per tantissimi giorni e notti. E una delle proprietà dell'acqua salata è quella di rendere seri gli terreni. Quindi ci vollerò giorni. Queste persone patirono la fame, non avevano più niente da mangiare, morirono gli animali, furono costretti a migrare in zone. Ecco perché poi uno dei figli di Noezio Sutra, Cam, lo troveremo in Egitto per cercare cibo. Ecco perché l'albero della vita, il risorgere delle piante dopo un certo periodo dove il terreno fu reso sterile a causa della caduta di questi miliardi di tonnellate di acqua salata che vaporizzarono e che ricaddero per giorni e notti nell'atmosfera. Clamori, abbiamo detto, fulmini e scosse di terremoto. Fulmini perché? Perché la carica elettrostatica che si produsse era qualcosa di enorme. Si abbassarono addirittura le temperature, quando si oscura il cielo, accade sempre, di qualche grado centigrado, ragazzi. Avvengono sempre queste conseguenze. I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle. Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra. Furono tantissime le persone che morirono grazie all'impatto di questa cometa. Un terzo della terra fu arzo, bruciato. Ovviamente poi loro fanno riferimento ai racconti soprattutto che partirono da quella zona, dalla terra di Sumer. Per loro il mondo, sappiamo che fu la mezzaluna fertile dove praticamente nascerà dopo il Neolitico la civiltà che porterà fino alla nostra. Un terzo degli alberi andrò bruciato. L'intera foresta dell'Elam lo ritroviamo nelle teste delle ammettazioni dove Neulta batte la sua mazza e incendiò la foresta dell'Elam. Ora ditemi voi se gli alieni combattevano con mazze di pietra oppure col piccone perché fecero usare i picconi per scavare e bonificare i territori quando questi governatori anunna schiavizzarono la popolazione locale. E ogni erba verde si seccò. Il secondo angelo suonò la tromba come una gran montagna di fuoco fu scagliata in mare. Una gran montagna di fuoco fu scagliata in mare. La caduta della cometa Bark nell'oceano indiano. Un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature che vivono nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto. Il terzo angelo suonò la tromba e cadde dal cielo una grande stella. Qui ce lo sta dicendo chiaramente. Cadde dal cielo una grande stella. Era la cometa. La descrivevano in quel modo loro. Ardente come una torcia. Ragazzi era la cometa. E colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. È la coda della cometa Bark che impattò tra il Tigri e l'Eufrade. Questo è il retaggio di cui racconto arriverà fino agli erodiani perché noi abbiamo dimostrato che poi discendevano proprio da questi Kurgan attraverso i re Dimitani che erano gli israeliti. La stella si chiamava Asensio. Un terzo delle acque si mutò in Asensio e molti uomini morirono per quelle acque perché erano diventate amare. Un'altra cosa che ci parlano i testi delle lamentazioni. Leggete Lucifero e il re sumero tradito dal Signore. Quando leggerete quei testi è un cronovisore che vi apre un mondo su quello che avviene. Mi sono chiesto ma come mai tutti questi professori sumerologi non hanno letto questi testi. Non si sono accorti che si parlava in maniera chiara del fatto che ci fu una catastrofe dovuta allo schiatto di una cometa. Jacobson non superò. Disse attenzione perché lì è avvenuto qualcosa, ci deve essere stata una grande catastrofe. L'unico che ha avuto il coraggio di dire solamente queste poche parole. Un terzo delle acque si mutò in Asensio e molti uomini morirono per quelle acque. Dicevano i testi delle lamentazioni si parla del fatto che le acque si mescolarono con la terra e quindi l'acqua non era più potabile, non avevano neanche più acqua da bere. Il quarto angelo suonò la tomba e un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito e si oscurò. Si parla in quei testi del fatto che il sole e la luna scomparirono diventati neri. Il sole, la luce del sole era visibile come quella di una stella. E qui siamo su Apocalisse ragazzi. Stanno raccontando quello che era scritto in quei testi delle lamentazioni che non trovate in Italia né in italiano purtroppo. Abbiamo dovuto tradurre tutto noi. Il giorno perse un terzo della sua luce e la notte ugualmente. Vidi poi e udì un'aquila che volava nell'alto del cielo e gridava a gran voce guai 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 agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal cielo sulla terra che fu data la chiave del pozzo dell'abisso. Egli aprì il pozzo dell'abisso e salì dal pozzo un fumo come il fumo di una grande formace che oscurò il sole e l'atmosfera. Ti quadra? Allora detta così assolutamente sì. Allora guarda io ho anche una domanda che ti vorrei sottoporre che è questa. Allora nel libro intanto è sconvolgente quello che sta dicendo e viene anche da chiedersi come si fa ancora a tenere la Bibbia come riferimento diciamo religioso per basare su cui basare le proprie convinzioni e le proprie impressioni alla luce di quello che comunque mette in evidenza. Tuttavia il libro Apocalisse o Rivelazione di Giovanni è l'ultimo libro del Nuovo Testamento e è di difficile interpretazione. Secondo te Alessandro di cosa parla realmente? La Bibbia è un testo che racconta di molti fatti storici che hanno subito un processo di evemerizzazione dove questo evemerizzazione. Evemero era un filosofo che fu il primo a dire attenzione perché qui si parla di personaggi umani riferendosi a tutti gli dèi dell'antichità che sono stati divinizzati e deificati. Ti faccio un esempio. Se noi vediamo i nomi di questi personaggi Anu, An vuol dire cielo, Enlil vuol dire signore del... Vuoi che ingrandisca l'inquadratura? La puoi anche ingrandire però questo ci occupa un altro campo di indagine susseguente a questo su cui magari potremmo fare un'altra puntata per non allungare troppo questo per vedere che cosa è successo proprio a livello di mitologia come la mitologia poi riprende racconti storici realmente avvenuti cioè la famosa battaglia tra il signore e Lucifero di che cosa parlava in realtà? Se vado avanti arriviamo un'ora e mezzo di trasmissione oppure ne facciamo un'altra puntata a parte per incuriosire le persone ancora di più e vedete questi personaggi hanno non sappiamo i veri nomi di quei governatori sumeri hanno assorbì hanno fatto assorbire gli effetti catastrofici avvenuti durante lo schianto di quella cometa quindi quel sole e quel vento maligno Enlil oppure Ninlil la famosa Lilith moglie di Adamo che vuol dire signora del vento Lilith in accadigo signora del vento Ninlil in sumero signora del vento la vera prima moglie di Adamo quindi raccontano quell'evento in chiave eh mitologica deificando questi personaggi da cui poi nascerà il potere perché perché uno dei figli di Noè ovvero Kam andò poi in Egitto e fu deificato come Kam Am Amon il dio inconoscibile Amon tant'è che i protogerogliefici agizzi che sono andato a studiare sono uguali al proto e la mitico e eh a i simboli trovati nelle tavolette di pitogrammi ritrovati nelle tavolette di tartaria ci sono oltre mh 200 eh pitogrammi ritrovati in quella zona e sono molti particolari uno ad esempio il portabracere non poteva fare il giro dalla tartaria all'elam l'ho ritrovato nel proto e la mitico stanno che questi professori non l'abbiano trovato fino al protogerogliefico agizio ti faccio un esempio un fiume era rappresentato come due onde no? ce lo ritroviamo ehm fino in nei protogerogliefici agizzi il sole con un cerchio e un altro cerchio al centro oppure con la famosa sbassi che è il sole che ruota un albero veniva indicato così questi sono provato gerogliefici agizzi ma il portabracere era una cosa molto particolare come ha fatto dall'elam dove c'era elli ad arrivare fino in Egitto ed è a questo portabracere raffigurato in questa maniera non poteva andare fino in Egitto quindi lì poi andai avanti con le scoperte vedendo come questi personaggi infatti molti archeologi del 1700 1800 c'erano arrivati a dire ma come mai tutti questi primi faraoni hanno fattezze del volto caucasiche perché provenivano da lì e addirittura negli occhi avevano lapis d'azzuli che venivano dall'alcurdistan da quelle zone verdi o azzurri erano ariani e attenzione perché fino alla terza fase di nakada 3 quindi 3100 stiamo parlando Luca in Egitto non esisteva niente esistevano solo villaggi di pastori quando improvvisamente nel 3100 nakada 3 terza fase compagnano improvvisamente oltre a documenti provenienti da Babilonia con trigonometria e formule matematiche avanzate stiamo riportando tutto nell'ultimo libro Genesi degli Dei dove tutte le teorie della paleoastronautica le stiamo praticamente smontando tutte una per una ci ritroviamo le prime forme di scrittura le abitazioni che da canne di bambù vennero fatte e come con mattoni fino poi alla costruzione delle prime piramidi lo zigurat trovato il primo zigurat a saccara e 2580 avanti cristo poi evolveranno le mazze kurgan il primo faraone il faraone narmer basta scrivete su wikipedia tavoletta di narmer quello è il primo faraone e vedete che la mazza kurgan di pietra in mano sia loro si aggregavano con tutta la loro famiglia si erano organizzati militarmente e dove andavano prendevano subito il potere allora luca io se tu sei d'accordo è molto interessante invece vedere che cosa è successo perché poi ci ritroveremo con stiamo parlando del fatto che eh di come questi racconti sono arrivati fino alla bibbia e del perché questi personaggi poi subirono questo processo di evemerizzazione furono divinizzati e dei figati arrivando infine ad essere a diventare il signore della bibbia e il famoso poi nel tardo cristianesimo lucifero lucifer portatore di eh luce e quindi vorrei eh estrapolare dalla mitologia la famosa battaglia che ci fu tra due fazioni di questi kurgan quelli di eh di ellil contro la fazione encita e qui avevo preparato tutto eh la genealogia e eh ripartiremo nella prossima puntata parlando appunto della famosa battaglia la prima battaglia mitologica che ci fu tra il signore contro lucifero e gli angeli ribelli senti Alessandro intanto io ti ringrazio tantissimo perché sei uno spasso proprio ti faccio anche complimenti perché stai veramente descrivendo tutto in maniera assolutamente chiara no molto molto figurata tra l'altro in grado anche per chi comunque non mastica certe materie di potersi orientare un attimino quindi grazie veramente di questo e quindi ringrazio anche il tuo figlio che comunque ti assiste nel tuo lavoro assolutamente impegnativo senti io avrei almeno un'altra due domande e una è piuttosto interessante che è questa e eccola qua è questa domanda ehm ci sono predizioni eh in apocalisse che si sono avverate no Luca eh tutto il testo degli apocalisse riguarda ma guarda nessuno mai ha fatto predizioni del futuro sono sempre state fatte apposteri poi eh che ne so possiamo prendere anche questo è esattamente questo è un po' l'ingano bravo Alessandro perché questo è un po' l'ingano si si ci dicessero chi è in grado di fare predizioni oggi quello che avverrà da adesso fino a un tot di giorni o di anni non è mai successo esattamente esattamente sono sempre rilegge a posteriori e reinterpretate a modo loro queste predizioni esattamente e ancora sto combattendo con i simpson che mi dicono i simpson avevano previsto ma l'hanno scritto dopo nel senso non hanno previsto nulla ecco vabbè comunque contenti loro quindi non c'è alcuna predizione nella Bibbia che poi in apocalisse scusami che poi se ne parleremo nella seconda puntata perché è interessante quella domanda che mi hai fatto perché si allacceranno a delle tavole le tavole dei destini che avevano questi personaggi e vedrete a cosa serviranno queste tavole serviano per prevedere passato presente futuro per vincere la guerra e dare la regalità ecco più che altro i famosi tarotti di oggi ok allora un'altra domanda che è questa l'autore di apocalisse sembra celare il proprio nome dietro un personaggio Enoch chi era Enoch allora Enoch lo svegliamo nella prossima puntata se vuoi assolutamente sì raccontiamo tutta la storia di Enoch l'abbiamo raccontata poi proprio in questo libro 666 la tutta degli angeli ribelli e il marchio della bestia ecco te vuoi questo libro e Enoch anticipiamo che Enoch era il figlio di Caino ole è una famiglia allargata eh già allora senti senti Alessandro allora in pratica eh nella Bibbia no tutto quello che viene riportato è assolutamente una descrizione rispetto a quelle che sono poi degli accadimenti storici né più né meno schiuso per quale ragione è stato preso come come libro sacro su dove poi ispirarsi e quindi poi fondarsi una religione anzi più religioni in realtà sai il problema è diverso noi siamo occupati dello studio di tutte le divinità no alle da quelle greche assire babilonesi fino a quelle non rene ragazzi questi personaggi erano sempre gli stessi personaggi che cambieranno nome a secondo del luogo ti faccio un esempio parliamo addirittura ci hanno fatto i supereroi Kale-L con Superman no? eh Loki famoso Yahweh della Bibbia poi sveleremo chi era lo abbiamo svelato eh guarda la prossima puntata anche che verrà deificato come Balladad come Crono eh come Moloch il dio che mangiava i bambini ecco sono sempre i stessi personaggi che cambieranno nome a secondo poi delle varie località in cui furono poi infine eh venerati quindi rimandiamo tutto alla prossima puntata con tantissime altre eh scoperte che eh vi porteremo noi stiamo dando solamente ovviamente pillori di informazione eh se voi leggete questi libri ragazzi vi si aprirà veramente un mondo perché io vi metto davanti a testi storici che purtroppo hanno subito una censura assurda perché censurare i testi delle lamentazioni non trovarli da nessuna parte è un sacrilegio veramente perché lì c'è descritto quello che accadde il 29 giugno del 3123 avanti Cristo questo libro se vuoi scusami Ale questo libro se vuoi lo mettiamo in piattaforma così le persone possono trovarlo con più facilità va bene? sono due 666 la caduta degli angeli ribelli il marchio della bestia e poi il seguito Lucifero il resumero tradito dal signore dove sveliamo addirittura chi era questo famoso Lucifero il processo che subì dove fu imprigionato come fu liberato tutta l'intera storia ma eh compresa poi tutta la storia di Enoch attraverso il primo testo quello più antico il testo amarico eh ed è completamente diversa la storia da quello che ci hanno raccontato che vede fantasiosi l'intervento di fantasiosi entità extraterrestri sulla terra no assolutamente non è così altrimenti io ho chiesto se vogliono venire a confronto pubblico ma poi quando chiedo queste cose eh purtroppo si negano tutti quanti e sai quando poi ti trovi davanti un ricercatore che si occupa di storia comparata e davanti eh a faraoni succhiani ma a questo quello o quell'altro di mettere davanti documenti e prove archeologiche etimologiche documenti poi gli cade tutto quindi meglio censurare oppure ignorare però qui stanno ignorando un vero un lavoro enorme che abbiamo fatto eh un vero e proprio cronovisore che per la prima volta riesce a svelare eh quello che successe è oltre 5100 anni fa ottimo senti Alessandro ti faccio l'ultima domanda eh allora tu sai che c'è stata una rivisitazione storica eh che prende il nome della vera storia dell'umanità dove si si dice insomma che praticamente la storia dell'umanità eh risale a 200 poco più di 250 anni fa insomma ecco quindi tutto quello che di fatto ci viene tramandato corrisponde a un'invenzione tu sei di questo avviso o ci sono documenti sufficienti per creare proprio una cronologia fino ad arrivare a 2-3 mila anni 250 anni fa ma stiamo parlando di della bufala di Fomenco quella storia lì sì esatto sì assolutamente è tutto un falso noi abbiamo documenti ma dall'impero romano in poi abbiamo tutto ragazzi purtroppo e questo è un grosso problema perché poi in mezzo a mille bufale raccontate mille volte quando vengono fatte scoperte storiche vere quelle scoperte storiche passano vengono messe nel calderone delle tante bufale di disinformazione e sono tante Luca sono tantissime vi assicuro che il web è pieno sì sì ma mi ci sono ritrovato per esperienza personale perché poi quando mi sono reso conto che c'era delle incongruenze perché lì per lì ero anche io rimasto affascinato di questa cosa poi mi sono accorto che in realtà non tornava quasi nulla e ho visto anche quanto contrasto ha creato questa cosa persone il problema è che diventano anche dogmatici peggio dei credenti che cade in queste bufale sì 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 fanatici e fanatici totali proprio sì 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 ma potremmo fare una puntata anche dove si mette in evidenza che la vera storia dell'umanità è un frutto poi alla fine nemmeno della new age proprio un frutto di sistema che stebbe anche per nascondere la vera storicità che c'è stata dove storicamente si può ci consente anche di poter risalire a determinate condizioni e beh sai Luca queste nostre scoperte storiche no che cosa che indicazioni ci forniscono innanzitutto che prima dell'avvento di questi kurgan esistevano delle società neogilaniche qualitarie dove tutto veniva messo a disposizione tra gli abitanti del villaggio i governatori di quelle città avevano una casa con la stessa cubatura dei loro concittadini immaginati oggi riproporre e questo lo fece anche Gesù e io vengo attaccato per difendere la figura di Gesù ho detto attenzione era un uomo ma io non lo sto attaccando perché se tu prendi il racconto dal nuovo testamento di quello che succede ad Arania e Saffira uccisi da Pietro lì è molto chiaro quello che è successo perché questi due vecchietti entrarono in queste società in queste comunità di terapeuti vendettero per entrare in queste comunità tu quello che avevi lo dovevi mettere a disposizione per intero in questa collettività vendettero un potere di terreno e trattennero una piccola parte di denaro per sé bene Pietro il nostro caro San Pietro uccise prima Anania e poi Saffira due anziani coniugi te lo dice molto chiaramente chiunque vuole ma addirittura il Bergoglio se l'è cantata e ha detto eh sì Pietro ha ucciso Anania e Saffira quelle società egualitarie no? riproposte oggi immaginati che cosa vuol dire vuol dire riprendersi nazionalizzare innanzitutto riprenderci la proprietà della moneta riprenderci tutte le industrie e fare in modo che tutto quello che noi produciamo venga messo a frutto per l'intera collettività senza essere usurati da banchieri o da due elite che da 5.000 anni dominano il mondo anzi l'elite Kurgan da cui poi abbiamo tutta l'aristocrazia nera che arriva fino ai principi di tutta Europa ci domina da più di 5.000 anni un'altra è quella che nascerà in un altro contesto poi se vorrai ne parliamo ma non sono cose censurabili perché sono cose che io tratto sempre in maniera storica con prove documentali su cui poi nessuno può dire nulla capisci? sì ma qui non censurano le bugie o le cose che non si possono dimostrare censurano le cose vere questa è la cosa importante sì però quando parli di storia noi non stiamo subendo più censure proprio perché evito di commentare faccio solamente video e nei video parlo di storia quindi chiunque vuole confutare può farlo noi anzi lo invidiamo a venirci a confutare ma devono parlare di storia di prove archeologiche tipologia documenti di questo devono parlare per confrontarsi con noi certo ok Alessandro io ti ringrazio tantissimo della disponibilità a te e anche a tuo figlio che immagino ci stia sentendo adesso sì ok ringrazio tantissimo fisseremo sicuramente altre live appena chiudiamo questa appena altre interviste appena chiudiamo questa fissiamo subito un appuntamento grazie grazie di cuore per il contributo che stai dando per rendere chiaro un qualcosa che qualcuno ha cercato di non renderlo assolutamente né fruibile e né meno chiaro quindi grazie di cuore e arrivederci a presto ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti